Ladies and gentlemen, tonight only for you Hollywood is crazy! Aperto per i giovani, scopriamo cosa ci svela! Il svelare quella che è la notte di un Avezzano, fashion and glamour da vivere così con le immagini di weekend di intorni che per tutti quanti loro cominciano a... Girare! Allora Costantino Vitaliano, un ospite per un Natale d'eccezione! Intanto Hollywood mi porta bene, perché è uno dei marchi che ho creato io dal nulla, era la maglietta dei camerieri dell'Hollywood di Milano. Quest'anno è andato molto bene, hai già detto tu ho vinto con la Gregoracci! Vedo bellissimo, nuovo di pacca, bellissima gente, girati è pieno, fai vedere delle bellissime ragazze che ballano! Perché ci sei tu! E beh, sono contento allora! Viva l'Hollywood, viva le donne, viva tu che mi segui dappertutto! E il weekend di intorni fa così! Gira per voi! Chiara Castaldi, una voce calda per un Natale che sia sempre più rosso! L'Hollywood, beh, per capirlo bisogna venirci, carico, insomma un Natale davvero all'insegna del divertimento e un po' anche della follia dai! Mister Terra, un perfetto connubio tra allenatore e public relation! Questo Hollywood è un grandissimo locale, è un bell'ambiente, tutta bella gente, tutti i ragazzi e soprattutto per le donne! Tu sai che cosa fa weekend di intorni nella notte? Gira! Per voi! Fabiola, in primis, tanti auguri di buon Natale e soprattutto per questo anno che sta per finire! Bellissimo, straordinario, visto che lo vivo tutti i sabbati da quando ho aperto e a prescindere dalle persone che lo gestiscono, che li vogliono bene dell'anima, però è stupendo! La musica è bellissima, gli ospiti sono fantastici! Vi invito tutti quanti all'Hollywood, visto che è un locale fantastico! Auguri! Claudio Ruffo, che cos'è l'Hollywood? L'Hollywood è il ritrovo dei ragazzi, anche perché in questa zona non c'è niente, per poter evadere, per poter stare tutti insieme! Ci abbiamo un po' di tutto, dalla musica particolare, dai barman freestyle, quindi vi invito tutti a venire, mi raccomando! Siamo qui all'Hollywood con Paolo e Emanuele! Vi auguriamo un certo buon Natale a tutti per questa serata grandissima! E l'Hollywood è un gran locale, ci divertiamo e stiamo molto bene insieme! Cristian Zarini, conosciutissimo perché il calciatore ex del Pescara è adesso uno dei più rappresentativi di questa zona! È un bellissimo locale, devo ringraziare soprattutto il mister Terra, Andrea! Venite tutti all'Hollywood, grande serata e bellissima gente! Guardate che triade di belle ragazze! Invidiamo tutti! All'Hollywood! Sapete cosa fa Weekend ed intorni? Vediamo se lo dai! Gira! Per voi! Si conclude qui questa serata di Natale all'Hollywood di Avezzano con un special event meraviglioso, un costantino fantastico! La serata è stata molto entusiasmante e cosa possiamo aggiungere? Aggiungere che questa è la stella che fa splendere questa zona marsicana, questa è la stella dell'Hollywood e questa è la stella che si accende questa sera con Weekend ed intorni che per tutti quanti loro dall'Hollywood saluta, dalla buonanotte e continua sempre a girare! A Weekend ed intorni auguri buon Natale!